Ciao a tutti, ecco di nuovo qui con voi, come vi avevo promesso, per questa sezione del mio canale YouTube dedicata al Mavic Pro. Quello di cui oggi vi parlerò è questo zaino. Questo zaino è fatto esattamente su misura per il Mavic Pro, ora lo apriamo e vi faccio vedere com'è il suo interno. Importante come sempre questo zaino è aprirlo in questa posizione perché aprendolo abbiamo ecco il Mavic Pro sistemato esattamente all'interno di questo zaino. Lo zaino è fatto in schiuma tagliata al laser, è perfettamente calzante con il Mavic come vedete, ci va il controller, il Mavic, tre batterie, le eliche, il caricabatteria e la cavetteria. Inoltre io qui ho inserito anche uno smartphone che praticamente mi serve per volare. Lo zaino è molto resistente ma al contempo è anche leggero perché pesa circa un chilo e tre quindi meno di un chilo e mezzo e ricordate che quando scegliete uno zaino che l'importante è il peso perché se pesa troppo poi le vostre spalle ne risentiranno. È rinforzato, quindi resistente agli urti, dietro ha delle imbottiture, gli spallacci sono regolabili e le dimensioni come vedete sono abbastanza contenute. Il costo dello zaino è di circa 37 euro sul sito di Amazon, poi vi metterò il link sotto nel video, nei commenti, video, così se vi interessa lo potete andare a vedere. C'è sia in grigio che in nero, io li ho presi entrambi, uno per me e uno per il mio amico Enzo. Come vedete qua c'è la scritta Mavic, è molto grazioso da vedersi, ma soprattutto ci sta tutto quello che mi serve per una bella sessione di volo e divertirvi. Io ho terminato, come vi avevo promesso, in questa sezione del mio canale parlerò esclusivamente del Mavic Pro, quindi se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, perché successivamente metterò altri video, sempre con recensioni di articoli che interessano il Mavic e il Mavic stesso. Io vi ringrazio, ci vediamo alla prossima, ciao!